Una confisca di beni del valore di quasi un milione e mezzo di euro è stata effettuata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli dopo indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti delle figlie del defunto Ciro Giordano. L'uomo avrebbe avuto un ruolo importante nello scenario criminale campano in quanto già dagli anni 80 avrebbe gestito le somme di denaro delle maggiori organizzazioni camorristiche utilizzando i propri conti personali. Le indagini hanno permesso di accertare che in poco tempo i conti di Giordano si sono arricchiti di oltre 6 miliardi di vecchie lire. E' stato per rilevata anche l'emissione di assegni per importi molto alti a favore di esponenti di spicco di clan della Camorra come Angelo Nuvoletta, Lorenzo Nuvoletta, Pupetta Maresca, Pasquale Zazza, Vincenzo Agizza e Antonio Agizza. Il legame con i maggiori sodalizi criminali campani, con i clan dei Casalesi, dei Contini ed altre organizzazioni criminali della cosiddetta alleanza di Secondigliano se da un lato gli avrebbe consentito di gestire enormi somme di denaro destinate all'usura e all'iciclaggio, dall'altro sarebbe risultato deleterio per la famiglia Giordano raggiunta nel periodo dal 1987 al 2001 da diversi sequestri, uno dei quali consentì la confisca di oltre 30 miliardi di lire custodite in banche italiane e svizzere. Le confische di oggi sono giunte al termine di attività investigative che hanno determinato diversi provvedimenti cautelari a carico di persone molto vicine a Giordano, spingendola a spogliarsi formalmente delle ricchezze successivamente intestate alle figlie, sotto forma di investimenti e di polizze.